La BNL è sempre stata presente nella città di L'Aquila, ho iniziato ad operare in città con la BNL, quindi ha fatto tanto, senza fare troppi giri di parole, perché hanno avuto la brillantezza ai dirigenti di qui dell'Aquila di congelare tutto il sistema creditizio in credito, in addebito, tutto quanto per i mesi successivi al terremoto e poi parlarne con me, titolare dell'azienda, per cercare di sistemare le varie posizioni, sia creditizie che debitorie, quindi è stata una banca presente. La BNL debba seguire attentamente le vicende della città perché se ci sarà una ripartenza economica da parte dello Stato, la BNL può investire senza problemi nella città dell'Aquila dell'Aquila. Grazie a tutti